Ciao ragazzi, io ho deciso che la faccio finita con il pagante e mi ammazzo sopra questo finale. Ciao ragazzi, editevi. Uccidetevi! Non ho nulla da temere! Sì, sono pronti? No, ma dobbiamo andare a Trieste È di virus in botta Beh ragazzi che dire, c'è Fedex che vuole sapere se a Rovellate Marittimo di Genova c'era la Red Bull nel frigorifo Non c'è nessuno di niente Ci sono molti controlli Ma a posto? Signori e signore, attenzione, siamo qua con Andrea Di Pre Andrea Di Pre è più il vagante Una delle settimane più importanti per me perché incontro voi finalmente live Esatto, per la prima volta dopo il live e la seconda volta E perché due giorni fra a Bologna ho incontrato l'ambasciatrice mondiale della marijuana Ah, beh, è male Una cosa molto sobra Oh va, strano, la tocco io e va No, ma adesso... Non c'è da dire Hai pagato un censore Grandi ragazzi hanno avuto il coraggio di salire e di non poppare nonostante abbiano bevuto E' un top performance Che dire, è un grandi Non c'è da dire Per una volta il giveaway di FedEx si servono a qualcosa Jamie, svanti che abbiamo in modo Oppere d'antemobile Giù di shampoo No, è stato un'altra dipende No, è stato un'altra dipende No, è stato un'altra dipende La persona va sulla canzone Tutto c'è, tutto c'è Veramente Tutto c'è, tutto c'è Veramente Tutto messo, ballo in pista Con un cristal ci si bagna Minchia frate, la coppista è cagna Come la Carpagna Stasera spruzzo al mio tavolo guzzo Ma sono seduto con persone a muzzo Al ritorno guido io Bevuto sbatti porto Facciamo per il pagante i brindisi Scusate E dove c'è il pagante? C'è casa Come tu non hai mettito il caffè? Certo E stasera duro fino alle serenze Il nostro chiuso dentro? Non si apre Anche qua, idem, clamoroso Chiama quel merda di Felix Sta scena è etica No, te lo dico Non sei di pre No, te lo dico No, te lo dico No, te lo dico Non c'è il timbro del privè Troppo sbatti l'alcol test Sboccio al covo di nord-est Minchia frate, nughene 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 Quindi quanti ingrasserà? 850 calorie Ingrasserà i di 850 kg Salutiamo i nostri amici a semaforo Il pulò Ok, adesso Andiamo a spruzzare il baffo Stiamo studiando la situazione Zampero Squad Senza senso Ah, innanzitutto troviamolo L'ho capito adesso Innanzitutto troviamolo Ragazzi, guardate la lancetta che è È impazzita È impazzita Vai, vai, vai Ok Vai, 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 vai Fermati Stolae 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 POK Stolae Stolae Stiamo guardando un programmi molto intelligenti Qu Rita Stiamo guardando programmi molto intelligenti Quis kalifa dice Kapanelli Quiskalipa è..laureato alla Bocconi ora 4 21 situazione è pietosa cosa succede qua scusate i coniugi erano di luce la cultura gli hanno detto fa un culo la grey goose vogliamo solo la cultura siiii già ma si pettina col dompero perchè lo fai? beh esso è un po' più pettidero che cosa l'hai lavato il vetro della macchina? col dompero signore e signori voglio presentarvi il mio amico signori noi siamo il pagano abdul cosa vuoi dire abdul alpagan cosa diresti alpagan alpaganca cosa diresti alpaganca alpaganca è quella dove abita obama no obama abita all'america io abito al marocco capisco alla mattina pettinero lo shampoo no 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 lì non c'è lo shampoo no no ma cosa vuoi dire alpaganca è un censor ad che cazzo sta succedendo? allora secondo pepe dopo una canna la sigaretta ti aiuta a farla salire vedo ma c'è non è una cosa stupida è una cosa scientificamente provata pronto? se non ciò si non ciò se non ciò si 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 Chi c'è il della madonna? La nuova canzone del pagante vogliamo farla così Fateci sapere se siete d'accordo Capisci? Motocicletta